Perché scegliere infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973. Costruiamo infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Costruiamo e installiamo. Perché dovresti scegliere infissi in alluminio? L'alluminio è un materiale leggero e riciclabile che permette di fare infissi molto grandi con profili sottili, quindi infissi luminosi, e infissi che durano tanto nel tempo. Allo stesso tempo un infisso è un materiale che conduce molto, quindi un materiale che non isola e per lo stesso motivo è stato creato il taglio termico, che è un isolamento che viene montato all'interno del profilato che va a separare l'alluminio estero da quello interno. Con un buon taglio termico si ottengono le stesse prestazioni di un infisso in PVC o un infisso in legno, ma con tutti i vantaggi dell'alluminio, come ti ho detto la durata, la resistenza, i profili minimali sottili e luminosi e la possibilità di colorarlo in qualsiasi colorazione di verniciatura, lucida, opaca, effetto legno e addirittura anche le ossidazioni, che è un processo che esiste solo per l'alluminio, che è un processo che rende delle colorazioni molto resistenti nel tempo e anche molto belle, degli effetti acciaio, degli effetti titanio. Se vuoi sapere perché scegliere infisso alluminio, ti consiglio di leggere il mio libro Scegliere infisso e facile con sistema bisacchi. Qui trovi una rassegna dei pro e dei contro di tutti i materiali e soprattutto si va a parlare anche di vetri e di poso in opera perché anche il migliore infisso in alluminio che è scelto correttamente se poi è posato male sarà un infisso anche fatto bene ma che non funziona. E anche per questo motivo ho creato un servizio di consulenza che puoi vedere su www.blogbisacchi.it nel quale ti posso aiutare a scegliere il giusto infisso e il giusto preventivo per i tuoi nuovi infissi. Ciao e al prossimo video!